Il comune di Quartiano in provincia di Lodi ha ospitato nei giorni scorsi la 36esima edizione del prestigioso concorso nazionale corale Gaffurio sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Acciai e al quale hanno partecipato una decina di cori provenienti da ogni parte d'Italia. Il coro dell'associazione musicale Rossini di Sassari diretto da Clara Antonicello ha partecipato alla competizione concorrendo nella categoria musica sacra con un impegnativo programma che ha spaziato dal periodo rinascimentale a quello contemporaneo, aggiudicandosi la fascia di merito oro e vincendo il primo premio assoluto con la votazione più alta. La giuria, formata dal presidente Giovanni Acciai e da Roberto Beccaria, Paolo Aversetti, Santina Tomasello e Maria Carmela De Cicco, ha inoltre assegnato al coro Rossini altri quattro importanti premi che hanno ulteriormente arricchito il suo palmarès. Il coro Rossini ha tenuto inoltre a Cremona un concerto di musica sacra su invito della Facoltà di Musicologia della città. Gli importanti riconoscimenti arrivano dopo un intenso periodo di attività concertistica che ha visto la compagine corale sassarese protagonista nel dicembre scorso di un importante concerto per il venticinquesimo anno di fondazione dell'associazione musicale Rossini nell'esecuzione dell'opera per colore orchestra Sunrise Mass di Ola Ghiello.